Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, oggi sono qui in questa postazione un po' diversa perché questo sarà un video molto diverso rispetto ai soliti. Sarà più un vlog in cui vi porterò nella mia piccola vacanza in Trentino Alto Adige. Allora, staremo via tre giorni e voglio farvi questo video perché è un po' che non vi porto dei contenuti sull'ecosostenibilità o sull'ecologia, insomma cose che possano aiutare effettivamente il nostro pianeta e volevo portarvi in questo video per cercare di trasmettervi la bellezza che io vedo nel nostro pianeta e che vorrei tutti vedessero per cercare di migliorarci perché siamo noi che lo stiamo rovinando tremendamente e in modo irreversibile. Sempre più spesso al telegiornale si sentono le notizie di ghiacciai che si sciolgono, uragani, questi sono tutti, tutti problemi legati al cambiamento climatico e è una cosa che a me sta molto a cuore perché uno ne abbiamo di pianeta, non so come dire. questo dobbiamo assolutamente preservarlo e quindi volevo portarvi in mezzo alla natura con me per tre giorni per farvi capire quanto è bella e quanto va preservata per evitare un disastro irreversibile che purtroppo siamo noi che stiamo causando. Con questa premessa un po' pesante, le clip che seguiranno saranno molto più leggere, vi farò vedere dei paesaggi mozzafiato e io parlerò poco perché comunque sarò in giro e quindi soprattutto ci tengo a farvi vedere la bellezza di questi posti. Spero tanto che questo video vi piacerà, fatemi, vi prego, fatemi tanto sapere nei commenti, non vorreste vederne altri, fatemi sapere tutto, però fatemelo sapere perché se no non capisco e io vi lascio al video. Ciao! Siamo in partenza, abbiamo caricato e adesso partiamo e andiamo a Munguerfo. Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti!